Cosa prova per me? Mi cercherà? Impara a leggere la sua mente con il metodo Maio. Iscriviti ai nostri corsi e visita il sito internet www.vocidagliangeli.com Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti a questa lettura per il segno dell'Ariete, valida per coppie e per single. Come sempre dico, se non risuona con tutti voi, dato che è una lettura generica, vi consiglio di guardare le letture del vostro segno ascendente o del vostro segno di luna. Se invece volete una sessione privata con me di tarologia, analisi karmica, life coaching o un pacchetto che comprenda più prodotti, potete andare a dare un'occhiata sul sito internet e trovate tutte le informazioni con la descrizione, delle diverse sessioni, dei pacchetti, con tutti i prezzi. Se volete invece diventare miei studenti di qualunque cosa, quindi tarocchi, magia d'amore e telepsichia o psicologia karmica ed energetica, andate anche in questo caso a dare un'occhiata ai programmi sul sito internet. Ma iniziamo subito, vediamo qual è la situazione per il segno dell'Ariete questo mese. Dunque, tanto per cominciare abbiamo l'energia della stella rovesciata. Questa come energia generale sta proprio a rappresentare il fatto che questo sarà un mese nel quale avremo voglia di combattere. Questa io la chiamo anche la carta del guerriero. Perché la stella è colui che sa che deve lottare per ottenere quello che vuole, che deve mettercela tutta, che non può fare affidamento su nessuno a volte e che deve davvero contare solo ed esclusivamente su se stesso. Questo a volte succede perché magari non ci sentiamo aiutati dagli altri, perché non ci sentiamo protetti dall'ambiente nel quale siamo. Altre volte succede perché magari abbiamo perso fiducia nella fortuna. Quindi pensiamo che per ottenere delle cose non possiamo più semplicemente star lì ad aspettare, sperare e visualizzare pensando che le cose arrivino, ma piuttosto pensiamo che siano necessari i nostri sforzi per raggiungere gli obiettivi. Quindi qualunque sia il motivo, comunque la stella rovesciata ci porta voglia di lottare, voglia di agire, di fare e soprattutto voglia di far sì che le cose vadano secondo la direzione che noi decidiamo di darle, secondo la nostra guida. Quindi sembra un mese abbastanza intenso sicuramente, nel quale sappiamo che se vogliamo qualcosa dobbiamo farcela da soli. Ma adesso andiamo a vedere un po' che cosa accade nelle due singole colonne. Qui ritroverete in una colonna voi stessi e nell'altra o il vostro partner o la persona con cui state interagendo. Da questo lato c'è una persona che si sente come il 5 di denari rovesciato e che prova l'8 di coppe, vorrebbe il 6 di coppe rovesciato, agisce come l'appeso e non dice 5 di bastoni. Dall'altro lato abbiamo una persona che si sente come un 9 di denari rovesciato, prova l'8, il 7 di coppe rovesciato, desidera il 4 di spade rovesciato, si sente come, si comporta come gli amanti rovesciati e ciò che non dice il 2 di bastoni rovesciato. Ci sono molte carte rovesciate, moltissime, anzi quasi tutte, perché abbiamo solamente una, due e tre carte diritte. Solo tre carte diritte in una stesa da 11 carte? Sì, sono tante, cioè sono poche. Questo significa che ci sono tante energie bloccate o comunque tante energie che sono lì per muoversi, lì per entrare in azione, ma non ancora questo mese, non lo faranno ancora questo mese. Piuttosto sembra invece che questi blocchi servano per tirare fuori qualcosa di nuovo, per tirare fuori qualcosa di diverso. Come a dire, la situazione si apre e inizia a fluire quando tiriamo fuori cose diverse rispetto a quelle che abbiamo fatto finora, perché invece sembra che abbiamo difficoltà a fare cose diverse. Sembra piuttosto che siamo entrati ultimamente in una sorta di routine mentale, routine emotiva, in cui ogni giorno ripetiamo sempre gli stessi pensieri, riviviamo le stesse emozioni e non ci viene in mente l'idea che potremmo fare o pensare in modo diverso per migliorare, qualunque cosa sia. Ad ogni modo, cominciamo un po' a vedere per chi è in coppia. Per chi è in coppia, questo è un momento veramente delicato, perché uno dei due, o meglio, per chi è in coppia, si sono create nell'ultimo periodo delle situazioni che hanno messo un po' in crisi la coppia. E queste situazioni, proprio perché siamo entrati in questo loop di pensieri, di abitudini mentali ed emotive, è da un bel po' di tempo che la situazione sembra in stallo su certe cose, sembra bloccata su certe cose. E dato che noi non abbiamo cambiato il nostro modo di fare, di vedere e di pensare, stiamo semplicemente accumulando. Cioè, proprio questa è la carta che rappresenta, in questo caso, l'accumulo. Siamo lì bloccati, fermi. Cioè, questa è una delle poche carte studenti. Studenti, accorrete e ascoltate, perché questo è uno spunto interessante. In una stesa con undici carte, ce ne sono solo tre diritte, di cui una è l'appeso. Ora, l'appeso, quando è diritta, parla di pausa, attesa e blocchi. Quindi è in linea con le altre carte rovesciate. Cioè, è come se fossero solo due le carte realmente diritte, non tre. Perché questa vale un po' come se fosse rovesciata. L'appeso è al contrario, è rovesciato. Ma, in questo caso, proprio perché, appunto, qualcuno sta un po' accumulando questa situazione, è come tenere un bicchiere d'acqua con il braccio teso, diritto, di fronte a noi. Tenere un bicchiere d'acqua con un braccio teso, diritto, di fronte a noi non pesa poi così tanto. Il bicchiere d'acqua non è poi così pesante. Quanta acqua ci può essere in un bicchiere? Quanto può pesare il bicchiere, anche se è di vetro? Non tanto. Quindi, ecco, si tratta in realtà di un peso che noi sosteniamo per stare bene nella coppia, per cercare di creare orarmonie o comunque per cercare di mantenere un equilibrio con il nostro partner. Noi cerchiamo di tenere questo bicchiere pensando che, in fondo, si può sopportare il peso. Non è poi così pesante. Ma immaginate di tenere questo bicchiere in mano con il braccio dritto di fronte a voi per mezz'ora. Dopo mezz'ora, anche se il peso era poco, questo peso comincia a farvi male. Cioè, tutto il braccio comincia a farvi male. Anzi, io in realtà non credo nemmeno che voi sareste capaci, senza un allenamento di un certo tipo, non sareste nemmeno capaci di stare con il braccio teso, diritto, con un bicchiere, tenendo solo un bicchiere d'acqua per mezz'ora. Perché fa male? Perché fa male? Ora, la metafora un po' che ho tirato fuori è per fare capire il senso, questa sensazione che stanno provando molti di voi che sono in coppia. Come appunto, se da un po' di tempo o da tanto tempo tenete questo bicchiere in mano che non sembra tanto pesante tenuto due minuti, ma tenuto mezz'ora, adesso siamo arrivati a venti minuti, quindi già sta cominciando a pesare. E quindi ecco che per chi è in coppia questo genere di situazione, se non viene gestita, se non viene elaborata o discussa con il partner, sta portando in uno dei due il desiderio di mollare, sta portando in uno dei due il desiderio di mandare tutto a quel paese e mollare. Perché sì, va bene essere guerrieri, ma fino a un certo punto. Va bene occuparsi delle proprie cose e lottare per ottenere ciò che si vuole, ma quando si tratta di coppia e di relazioni, bisogna lottare in due. Invece quello che vedo è qui una situazione nella quale uno dei due partner si prende molte responsabilità e l'altro si comporta in un modo molto infantile. Tutti e due in realtà hanno i loro infantilismi, per carità, tutti e due hanno delle caratteristiche, tutti e due questi partner stanno manifestando delle caratteristiche un po' infantili, magari uno non è in grado di fare da solo delle cose e l'altro dipende economicamente. Quindi ecco, comunque c'è il... Ci sono dei bisogni che vengono soddisfatti da questa coppia l'uno con l'altro, però il risultato che si vede è che appunto uno dei due in realtà si sente come se non fosse autosufficiente, come se stesse con l'altro perché ne ha bisogno più che per amore e per sentimenti. Cioè, ragazzi, studenti, ma guardate un po' questa stesa, dove sono le coppe? Dove sono i sentimenti e l'amore? Uno e due. Sul cosa prova? Sì, sul cosa prova. Quindi ci sono questi sentimenti, ma che tipo di sentimenti? Uno prova che vuole andare via perché sì, nonostante i sentimenti comunque non si sente appoggiato, è capito? E l'altro che comunque, sì, nonostante ci siano i sentimenti, la carta è rovesciata e c'è la sensazione di dover fare i conti con la realtà e cioè che i sentimenti non sono sufficienti per stare insieme. a volte i sentimenti sembrano proprio messi in secondo piano. Quindi, per chi è in coppia, questa persona come si sente? Si sente come qualcuno che non ha scelta. Queste mi sembrano due persone che stanno insieme, ovviamente non sempre, per sempre, ma in questo periodo stiamo guardando un mese, quindi potrebbe essere semplicemente un mese in cui si manifestano queste energie per tirare fuori cose nuove, come avevamo detto, perché questo è lo scopo, bisogna tirar fuori cose nuove per sciogliere queste energie. Invece, questa persona si sente come una che non solo non è indipendente a uso sufficiente, nove di denari rovesciato, ma non ha scelta, amanti rovesciati, non può scegliere perché è come se non ne avesse scelta. Il desiderio è che le cose migliorino, sì, il desiderio è che le cose migliorino, però intanto questa persona non sa come, due di bastoni rovesciato, sta in pausa, cioè, non sta facendo nulla perché sente di non sapere cosa fare. mentre dall'altra parte c'è un vero e proprio conflitto, cioè c'è il desiderio di andare via, di mollare tutto, ci sono problemi, litigi, cose di cui non si parla che però danno fastidio. Quindi, ecco, io qui vedo per le coppie semplicemente il fatto che, visto che c'è l'energia dei guerrieri, questo mese usatela bene questa energia dei guerrieri, fate la vostra parte, fate ciascuno la sua parte, non potete aspettarvi nulla dall'altro, però potete fare tanti piccoli cambiamenti partendo da voi stessi per portare l'altro poi a cambiare. In questi casi, ragazzi, io più che consigliarvi una lettura di tarocchi, io vi consiglierei o una sessione di life coaching con me, oppure un pacchetto che comprenda lettura per analizzare la situazione e le sessioni di coaching per trovare soluzioni, perché qui c'è veramente bisogno di trovare soluzioni, cioè, siete arrivati con queste carte, con questa combinazione, la riete è arrivata a un punto in cui rischia di trascinarsi per anni le stesse cose se non mette finalmente un punto e fa un cambiamento. Per chi invece è single, per chi invece è single, questo è un mese in cui io non vedo il formarsi di nuove coppie, anzi, vedo il ridimensionamento di alcune fantasie, vedo il fatto che la persona alla quale voi siete interessati o che è interessata a voi non riesce a matchare con voi, non riesce a fare click, cioè, queste due persone non riescono a fare click. Se fra queste due persone c'è già stato qualcosa e poi magari si sono allontanati, questo qualcosa che è successo è servito a capire che mancavano delle cose importanti e magari uno dei due ci è anche rimasto molto male o entrambi ci sono rimasti male, però mancavano davvero cose importanti. Uno dei due credo che sia anche arrabbiato e uno dei due si sta proprio allontanando e arrabbiato e arrabbiato sia con l'altro per certi comportamenti che con se stesso per trovarsi in questa situazione o per essere finito in questa situazione. L'altro invece si sente solo e sperduto, l'altro si sente come se fosse appunto. L'altro ha difficoltà a... Mentre uno dei due è molto forte, sta manifestando proprio una forza interiore nell'andar via nonostante tutto, nonostante anche il riconoscimento che probabilmente c'è un legame animico-carmico, probabilmente queste due anime sono proprio legate carmicamente, infatti ci sono due carte, tre carte carmiche, una, due, tre, la stella, gli amanti e il sei di coppe. Però ecco, nonostante questo legame così importante, così forte, così intenso che in certi momenti si è proprio sentito a pelle perché stare accanto a certe persone o interagire con certe persone ci fa sentire a pelle il tipo di legame che c'è, che va oltre il tempo e va oltre lo spazio. Però, in questo caso, stiamo parlando di un qualcosa che, se queste due persone hanno già interagito fra loro e non è andata, ha lasciato veramente un segno così forte che adesso l'unica cosa da fare per uno dei due è andare avanti, l'altro invece si sente un po' sperduto, l'altro obiettivamente si sente un bimbo sperduto e sta aspettando tipo il ritorno o sta aspettando un cambiamento o sta aspettando chissà che cosa, però, però l'altro mi sembra proprio un bimbo o una bimba sperduta che non riesce a stare da sola o che ha comunque difficoltà a gestirsi la vita da sola. Ma vediamo adesso qual è l'interazione fra il segno dell'ariete e tutti i dodici segni dello zodiaco durante questo mese. Ovviamente ragazzi questa è una parte che è specifica per i single ma per chi è in coppia io consiglio comunque di guardarla perché soprattutto se state interagendo con diverse persone potete trovare moltissimi spunti interessanti. Mentre mescolo ovviamente vi ricordo anche che per avere una sessione privata con me di qualunque tipo o per iscrivervi ai miei corsi vi basta andare sul sito internet guardare e dare un'occhiata a tutti i prodotti in alternativa inviate un'email alla mia assistente Angela vi spiegherà tutto e vi darà le opzioni che avete a disposizione e quindi potrete poi prenotare o dal sito o tramite Angela oppure mali estremi estremi rimedi ma solo dopo avere guardato le opzioni che avete sul sito ragazzi quindi non mi non inviate messaggi su telefono se non avete le idee piuttosto chiare a quel punto potete inviare un messaggio risponderemo al vostro messaggio whatsapp con i dettagli o comunque le cose che per voi sono poco chiare ma ripeto i canali preferenziali sono email e sito internet tra l'altro tramite email potete fare qualunque cosa perché c'è Angela che sta lì per questo è pagata per fare questo ma vediamo un po' adesso che cosa accade nell'incrocio fra l'ariete e i dodici segni dello zodiaco per questo mese ok cominciamo vediamo che cosa accade per chi di voi ha a che fare con un altro ariete ragazzi qua tutti volete attenzioni o comunque uno dei due vuole attenzioni è un atteggiamento un po' troppo egoista però cioè c'è uno dei due che pensa di avere bisogno che le attenzioni siano tutte su di lui no dovete darvi una regolata o voi o l'altro con il toro non c'è abbastanza feeling c'è un interesse superficiale per adesso con il cancro ci sono dei sentimenti ma nessuno fa la prima mossa no scusate questo era per il gemelli con il però no questo è per il cancro perché se è uscito così non è un caso se ho fatto se ho avuto questo lapsus non è un caso quindi questo è per il cancro ci sono sentimenti ma nessuno sta facendo la prima mossa quindi adesso andiamo ai gemelli per i gemelli nonostante quello che è accaduto non riuscite a lasciarvi andare leone dovete cogliere l'occasione quando si presenta vergine esci dalla tua zona di comfort e corri qualche rischio ogni tanto se hai a che fare con una vergine perché tu rischi che non succeda nulla con la vergine perché vuoi stare in un porto sicuro con la bilancia la bilancia si sente ferita non se la sente di continuare anche se io ho i miei dubbi che la colpa sia nel senso la bilancia si sente ferita e non se la sente di continuare ma anche la bilancia dovrebbe farsi una bella autoanalisi scorpione lo scorpione ha bisogno di tempo per capire e per decidere il sagittario con il sagittario serve una comunicazione più aperta con il capricorno no il capricorno non è interessato l'acquario l'acquario invece si è interessato vi pensa e sta immaginando anche sta fantasticando su come sarebbe un futuro e il pesci vi pensa è come se vi pensa il pesci dovete solamente agire e adesso vediamo qual è il consiglio degli angeli asso d'aria nuove idee ispirazioni capire la verità in una situazione qualcosa di nuovo potrebbe cominciare per voi ragazzi qualcosa di nuovo questo mese vi aspetta ma si tratta di un inizio un po' impegnativo che nascerà da nuove idee che verranno alla luce quindi ecco in questo contesto di nuove idee di nuove ispirazioni potrebbe appunto cominciare qualcosa ma è un inizio tosto per il resto per qualunque altra cosa inviate un'email andate sul sito internet e ci vediamo alla prossima e ci vediamo